Ragazzi oggi andiamo a sfidare niente poppo di meno che Francesco Pardini Ciao Pardo, intanto lo saluto, gli mando un bacio e un grandissimo abbraccio Non c'è bisogno che vi vada a presentare il buon Pardo Non lo andiamo a sfidare in Battlespot a suon di bot di Pokémon Ma sul calcolo del danno, su una specie di quiz Io lascio la parola al Pardo che così vi va a spiegare un pochino tutto E poi noi ci rivediamo qua con il quiz Cheese Manz, un appassionato di competitivo, ha creato un tool Per andare a indovinare quali Pokémon possono andare a reggere CU sotto determinate condizioni Io lancio una sfida agli altri Pokétuber se hanno voglia di farci un video E di sfidarci così ovviamente per ridere e vedere su 5 tentativi quant'è il career Perché ogni volta che faremo un errore qui il counter si andrà a riazzerare Grazie Pardo per la spiegazione Allora io, è vero, sono su YouTube ma non mi ritengo uno YouTuber E sì, ok, tutti quanti mi conoscete per... Cioè, tutti quanti, la maggior parte di voi mi conosce per Pokémon Ma non mi reputo un Pokétubers Ma, 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 amante, amante di CU voglio fare questo quiz E allora andiamo a fare il quiz Allora chi è sul canale che mi conosce e ha visto qualche video Insomma, ha visto che io CU l'ho giocato Lo amo alla follia per... A parte per la tipologia, a parte proprio per l'estetica Ma anche per i danni che fa sto aggeggio O praticamente noi dovremmo andare a indovinare A calcolare nella nostra mente I danni che fa CU 252 in attacco speciale Choice Packs più Beats of Ruin abilità Che va a calare la difesa speciale degli avversari Terra Fire, CU sotto sole Quanti danni fa di vampata A i Pokémon Random che vengono messi qui sulla destra In questo caso abbiamo Zygarde Poi i Pokémon sono tutti randomizzati Quindi saranno tutti a caso Anche a livello di set E qui abbiamo il contatore Contatore che si azzererà una volta che sbaglieremo Che sbaglieremo la risposta Allora, partiamo subito Abbiamo 5 tentativi Zygarde Drago Terra Assault Vest 252 HP 252 Difesa speciale Natura sfavorevole Però in teoria non dovrebbe morire Infatti resiste 69% di danno massimo Abbiamo Watchog Vabbè, Watchog tipo muore Muoiono due Perfetto Andiamo avanti Vabbè, qua ha Trick Fat Però è ghiaccio Settitan Trick Fat Quindi il danno sarebbe neutro Sarebbe neutro Non c'è debolezza Perché Trick Fat Grasso spesso resiste Assault Vest Secondo me però viene giù 133% Perfetto Andiamo avanti Allora, Craniados No, Craniados La Pre La Pre Il Baby Baby Tipo Roccia Assault Vest Resiste Resiste Però Però 155 Però 155 Giusto Giusto Allora, Arca No Arca no Perché è bulky Come poche cose al mondo Resiste Dugong Allora, Dugong è ghiaccio acqua Quindi Danno è neutro Praticamente A Trick Fat Non ha però Sempre 252 HP 252 Special Defense Però non ha una natura Che va A boostargli O a droppargli La Difesa Speciale Non ha la Assault Vest Secondo me viene giù 102 102 Di pochissimo Di pochissimo Di pochissimo Allora Torra Cat La Pre Di Incineror O Cincineror 252 HP 252 Special Defense Assault Vest Allora Torra Cat Tipo Ovviamente Fuoco Buio Quindi resiste A Ciu Però Torra Cat Veniva giocato Perché anche Bello resistente Secondo me Non viene giù No 113 Ok Bene Ricominciamo Ricominciamo Allora Quindi Primo Primo try Andato Andato Claydol Terra Terra Psico Secondo me Sì 206 206 Pazzesco 206 Pazzesco Screghi Buio Sì 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 Ne muoiono due Perfetto Andiamo Abbastanza easy Momentaneamente Quaxwell Acqua Quaxwell Acqua A Southwest Forse Sì 100 Cioè Preciso Una roba Preciso Allora Acqua Terra Southwest Marshtomp Acqua Terra Abbiamo detto 252 HP 252 Special Defense Con natura Favorevole Av No Infatti 83% Dai Dai Andiamo 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 avanti Qualiten Sì Sì Veniva giù Coso Ludwisk Assault West Ludwisk Io sinceramente Non mi ricordo Non ho minimamente Idea Delle statistiche Però Sottosole Terra Fire 113 Bene Combasken E Violite Però Con natura Che va Calare La Difesa Speciale Quindi Secondo me Secondo me Ci potrebbe stare Che viene giù Ok Che è fuoco Però Sì Infatti 117 Però Col fatto che Col fatto che aveva Oh Starmi Starmi Mi sembra che abbia Una buona difesa Speciale In più Ha una natura Che Gli va Ad aumentare La difesa Speciale Quindi Secondo me No Secondo me La tiene Secondo me No 118 Allora Siamo fermi A 7 Siamo fermi A 7 Simiser Che cazzo Deve Statistica Tutta cosa Sì Nel dubbio Metti sì 141 Ok Nel dubbio Vabbè Linun Esplode Abbastanza Abbastanza Easy Lunala No C'ha Shadow Shield Non viene mai giù Shadow Shield Sarebbe il tipo Il multiscale Di Lunala Bagon Drago Quindi resiste Con le violite Però Però è Bagon Cioè Tutto rispetto Però è Bagon Bruxish Bruxish Eh Sì Perché poi È anche fragile Abbastanza fragile Litleo Allora Litleo È un baby Con le violite C'è un baby Una pre-evo Con le violite Però Natura Sfavorevole Ok Che è tipo fuoco Però È sempre una pre-evo Stiamo andando Benino Stiamo andando Benino Allora Druddigon Che è Drago Quindi regge Fuoco Assault Vest 252 No Secondo me la regge Infatti 75 Prende uno sbotto Comunque Gigalitto Gigalitto A Stardi Quindi Non muore mai Più anche Roccia Quindi Vabbè Tutti i vari Moltiplicatori Del caso Sudovuto A Stardi Quindi No La regge 99% Appunto Frillish Frillish Questa è tosta Qua Secondo me Si perde Siamo al terzo try Allora Frillish Ha Un'eviolite Natura Sfavorevole Alla difesa Speciale Ma Frillish È bulky È lento Ma è bulky Quindi teoricamente La potrebbe Reggere La regge 99% La regge 99% Allora Samurot Samurot Allora Natura favorevole Alla difesa speciale Non abbiamo strumenti di sorta A south west Robbe varie Tipo acqua Samurot Samurot Ha delle buone statistiche Difensive Quindi secondo me Sì No 109 No Ci siamo fermati A 10 Quarto try Allora Graudon Graudon è Tipo terra Quindi resiste Ha una difesa speciale Non proprio Altissima Natura Sfavorevole Secondo me Però la regge Ma vai a fare in culo Graudon Ultimo try Ultimo try Allora Siamo fermati A 10 Porca miseria Su Graudon Siamo cascati Allora Shellos Shellos More 105 Manco tanto Manco tanto Gardevoir 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 Potrebbe Potrebbe 184 Sì 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 Sicuro Sicuro Allora Setitan Abbiamo detto Trekfat Quello veniva giù Con la Southwest Quindi questo Senza la V Viene assolutamente giù Graplock Che cazzo Sì Ok Bene Non mi ricordo Le statistiche Di tanta roba Cramorant Però Cramorant Non era proprio Un muro È vero Con la Southwest Natura favorevole Secondo me Secondo me No la regge La regge La regge La regge La regge Ragazzi Ragazzi Allora È finita così Abbiamo fatto 10 come risultato Siamo proprio Cascati Porca miseria Però Vabbè È andata Credo che sia finita in pareggio Tipo 10 a 10 Detto ciò ragazzi Fatemi sapere Se volete provarlo Io ve lo lascio in descrizione Fatemi sapere Se Lo Provate Questo quiz Il risultato che fate Fatemelo sapere Nei Commenti Noi ragazzi Oggi Per oggi abbiamo fatto Video così A cazzeggio Bacioni ragazzi Alla prossima Ciao